Buonasera, siamo a Urbino al festival, al Bio Festival, edizione 2013, al quale hanno partecipato tanti esperti in varie discipline. Quest'anno emergono le discipline orientali. Abbiamo qui la nostra Daniela Conti, che è dirigente nazionale WISP, la quale ha partecipato al seminario tenuto dal dottor Raimondo, seminario che era intitolato all'argomento Empatia applicata alle discipline orientali. La nostra intervistata ha presentato un tema molto particolare, mondiali antirazzisti. Chiediamo subito di parlarci di questi mondiali. Salve a tutti. I mondiali antirazzisti cosa centrano con le discipline orientali? Poco, perché in realtà noi parliamo di calcio, pallavolo, basket, cricket, quindi gli sport codificati come occidentali. Ci entrano molto invece con l'empatia e col discorso relativo alle relazioni fra persone, perché ogni anno, da 17 anni a questa parte in Emilia Romagna, si incontrano circa 6.000 persone provenienti da ogni parte d'Europa in rappresentanza di 70 nazionalità. Lo scopo chiaramente è quello di mostrare che attraverso lo sport è possibile avere un incontro, una relazione, una conoscenza e quindi fare attivamente inclusione sociale attraverso le discipline motorie e attraverso l'incontro su un campo da calcio. Immagino che i giovani trovino molto interessante partecipare a questi mondiali. Qual è la percentuale di adesione? Sì, ovviamente il target principale è quello dei giovani, però ai mondiali antirazzisti noi diciamo sempre che le partite sono aperte dai 0 ai 100 anni e soprattutto per organizzare questo evento che la WISP appunto porta avanti abbiamo bisogno di tanti volontari. Fra i volontari ci sono invece tantissime persone anziane che trovano in questo momento un modo proprio per confrontarsi con qualcosa di diverso che sia un confronto intergenerazionale quindi con i giovani ma anche diverse culture, diversi modi di approcciare allo sport e alla vita. Quindi un modo nuovo di fare sport per abbattere tutte le barriere? Assolutamente sì, per noi lo sport non è un bisogno secondario delle persone, non viene dopo aver soddisfatto gli altri bisogni ma è un modo proprio per creare momenti di socializzazione, di incontro. Lo sport è un linguaggio universale perché non ha bisogno del linguaggio verbale ma ha bisogno del corpo, della corporità e quindi attraverso questo è possibile poi appunto incontrarsi, conoscersi e superare quelli che sono i pregiudizi che molto spesso nelle nostre società sono ben presenti. Bellissimo quello che ha detto, la ringraziamo molto.